Con un messaggio su Facebook tra il sarcastico e lo sdegnato, Mario Vagnini, presidente dell'associazione Rosciano Insieme, chiede scusa ai propri concittadini per lo stato d'incuria del verde pubblico di cui si dovrebbero occupare lui e i suoi associati. Ma il Comune non ha ancora sottoscritto la convenzione che gli consente di ottemperare a questo compito, cosa che si verificò anche lo scorso anno e di cui ci occupammo anche noi in un precedente servizio. E qui lo sdegno, ma il sarcastico sta nella frecciatina tirata riguardo della convenzione, invece stipulata di recente dal Comune con l'ASET, proprio per il verde pubblico, dall'astronomico importo di 700.000 euro annui per 32 annualità. Possibile che non si trovi il tempo e le risorse per sottoscrivere anche le convenzioni esterne e che consentono, con quel poco di ricavato, alle piccole realtà di autofinanziarsi per tutte le iniziative che annualmente mettono in campo a beneficio di tutta la collettività? Una domanda a cui Vagnini ed i suoi associati vorrebbero una risposta. Oltretutto non è che lo facciamo noi per essere rimborsati dei soldi, perché noi prendiamo solo i soldi dell'assicurazione e i soldi del gasolio che usiamo. Il resto è tutto volontariato gratuito. Il 3 di gennaio sono stato chiamato in Comune, mi è stato detto adesso prepariamo il bando e poi dopo vi viene assegnata per tre anni. Dal 3 di gennaio alla fine di gennaio richiamo il sindaco per sapere a che punto è il bando. Ci stiamo lavorando, la prossima settimana è pronto. Alla fine di febbraio richiamo un'altra volta il sindaco e gli dico sindaco il bando che era da fare, quanto viene consegnato? Ci stiamo lavorando e ve lo consegniamo. alla fine di marzo veniamo chiamati che il bando scadeva dal 1 al 12 di aprile. Noi abbiamo consegnato tutta la documentazione chiamando il sindaco e dicendo per Pasqua ce la faccio a tagliare l'erba e a rendere i giardini abbastanza fruibili al pubblico. Il sindaco mi ha garantito stai tranquillo perché ci troviamo che siamo a Pasqua e ancora non sono stato chiamato dal Comune per fare i giardini. E' sempre a tema, attenzione al decoro e agli spazi pubblici, che Vagnini denuncia un'altra situazione di incuria potenzialmente però molto più pericolosa e che da tempo cerca una soluzione. Va benissimo che l'amministrazione ci abbia dato una sistemata al piano del campetto e fatto molto bene e va bene, però avevo segnalato anche la pericolosità di una rete dietro le porte come rinforzo che basta solo toglierla perché sono due strati di rete che è molto pericolosa, è stato abbandonato lì, lasciato lì e non so se dobbiamo aspettare le prossime votazioni per fare in modo che questo pericolo venga tolto perché se dei bambini cadono e ci vanno a sbattere con la faccia c'è il rischio che si fanno dei seri danni.